Sabes que pasa? Que cuando yo pintaba de pequeña, ilegal, nadie suponía que una chica pintase graffiti. Todo el mundo pensaba que solo eran chicos. Entonces yo pensé, bueno, pues si pongo María y me cogen, yo diré que estaba allí mirando y que los chicos me habían dedicado la pieza. All'epoca guardavi molto le lettere e come stavano assieme. He iniziado escribiendo BIN con dos E, que me ha stufado casi subito porque no encontré bien los incastos entre las dos E, era un poco repetitivo. Y entonces he decidido agregar la A y togliere una E. El significado lo he mirado después, no me ne fregaba nada. Hola, yo no soy Musa. O sea mentido. Soy una trina. Musa antes de pintar. Musa cuando empezó a pintar. Siempre, siempre relacionada con el graffiti. En los 90 todo estaba muy pegado. Estaba el graffiti, el hip hop, el breakdance, todo era uno. La mayoría de la gente hacía más de una cosa. Era un movimiento, ¿no? Quindi andaba bastante todo asieme. C'era gente que faceva più de una cosa. Yo ero molto legato all'aspetto del hip hop porque ero en el periodo, forse en el posto giusto, anche con las personas giustas. He iniziado con todas las cosas. Pero si tengo que decir que soy un writer o que soy un rapper, tengo que decir que soy un writer aún ahora mismo. Tuve la suerte de sentarme junto a un chico que se pasaba todas las clases dibujando y lo que dibujaba era repetitivamente un nombre. Le pregunté, me contó que él pintaba graffiti, no tenía ni idea de qué era, así que me fui a verlo un día a pintar y me fascinó. Primo pezzo que he fatto, 94, en Abruzzo. Estaba Tortoreto en vacanza y Tortoreto en la città de Luix y lui lo encontraba, era più grande di me, pero per me era mítico. Había dos sitios donde nos reuníamos. Uno era Plaza Universidad, que era en el centro de la ciudad, donde no hacíamos nada más que reunirnos, enseñar fotos, enseñar bocetos. Si alguien tenía algo nuevo, venía con sus mejores galas y lo enseñaba. Noi se spostaba en Parco Sempione al pomeriggio y poi la sera invece era en Piazza Vetra. Cien gente que giocava a basket, ascoltaba hip-hop, c'erano i writer que passaban lì al pomeriggio a fare gli sketch, a fumare. Uno avevamo avuto quello, altri avevano altre piazze. Ocupamos una fábrica y la utilizábamos para pintar, montábamos fiestas, se traían los platos, la gente bailaba. I breakers assolutamente erano quelli che avevano questa parte dell'outfit, dello stile. C'era un pezzo proprio sul disco di Fritz que dice «Muove il culo sulle nai più nuove». Que era proprio la immagine del breaker in mezzo al cerchio. Stiloso ballare, ma anche stiloso come era vestito. Il stilo lo marcabano soprattutto i breakers, i b-boys, perché erano i quei più ropa deportiva avevano, soprattutto perché la necessitavano per ballare, per ballare più comodamente, e perché molti erano scrittori di graffitti. Questo ha fatto che la scena fosse molto permeabile in tutti i sentiti. Recordo che la prima volta che vi la Sire 90 fu la gente di Madrid che vino a Barcelona e ci ha impactato molto, tutto il mondo las deseava. Credo che tutti noi, nelle grandi città, in Italia e in Milano in particolare, siamo stati influenzati da quello che vedevamo dagli Stati Uniti, direi. Nel 90, Barcelona tenia un stilo che era una mezcla entre il stilo di Nuova York e il stilo che si hacía in Berlì. Cogliamo questi due stili, lo fusionamos, con la differenza di che noi teniamo molti più colori di pintura, noi teniamo 10 mesi di sol. Ogni città aveva il suo stile, Milano aveva proprio il suo. Però è sempre stata una questione di influenze che si sovrappongono. Milano, primi anni 90, ognuno voleva avere il suo stile ed erano debitori dello stile new yorkese. A metà anni 90 vedi già che c'è uno stile che... Ecco, New York non ha più niente a che fare. Chiamavano lo stile punk, molti meno stilemi, reiterati da New York. Che ci sia stata un'evoluzione europea nel Brighting, quello è indubbio. La gente che sì che viajava desde Barcelona a altri siti, a altri siti d'Europa, traia di volta tutto questo materiale. Che tipo di cap era meglio per fare tal cosa, perché in esos momenti non c'era nulla, era tutto do-it-yourself. Era un bilanciamento tra lo spray bello che riuscivi a procurarti e i famosi colori marci, sempre dei giallini, marroncini. Pintàbamos con pintura para coche, e era abbastanza male, perché non cubria, non secava. E poi avevamo una marca che si chiamava Duplicolor, carissima. Reunendo dinero mi fuori a comprare il color che mi gustava, una specie di acqua marina, e li avevo in casa e li usavo per fare punti in l'aspera. C'è stato un grosso cambiamento da quando le bombolette erano spray da carrozzeria a quando sono diventati spray per i wrighter. Quindi colori che coprivano meglio, cominciava a esserci una gamma, arrivavano i primi colori spagnoli e dicevo, cavoli, hanno fatto i colori che coprono, il giallo che coprono, finalmente non esisteva. E lì i graffitti sono proprio cambiati. Io stuvi allì quando questo cambio si produjo, perché lavoravo in una tienda di graffitti, una delle prime tiendali di graffitti. E teniam pintura di altre marci, che anche erano per coche, però che erano un po... La calidad era un po' meglio. E il distribuidor della marca, la volta che venia a la tienda, nos diceva, che è questo? Che stai facendo qui? Quindi gli insegnarono tutto lo che facciamo. A través delle fanzine, a través dei libri, a través della gente che le explicava, si dò cuenta di che c'era un submundo di gente che utilizzava sprays per qualcosa che non era pintare il coche. Quindi il tipo ha cominciato a darle vueltas, ha cominciato a darle vueltas, e ha deciso di creare una marca di pintura che fosse per il scritto di graffitti. Credo sia veramente cambiato tutto quando sono arrivati i tappini apposta, quindi gli schini, i tappini che lasciavano un segno molto più pulito, molto più netto, ma anche standardizzato, quindi si vedeva che tutti stavano facendo i graffitti con gli stessi spray. Quando sono arrivati gli strumenti per i graffitti, è cambiato anche il modo di fare graffitti. Gli stili europei si fondevano o prendevano il posto di quelli precedenti, e quindi c'è stato ancora il cambio generazionale. Quando io empecé a pintare, avevano avuto alcune chicas che pintavano antes, però generalmente si dedicavano a fare firmas, e i miei amici si dieron cuenta che io ero una scrittura di graffitti, io ero una persona di passo. Quindi mi trattavo molto bene. Erano un po' paternalistas. No te caigas, no, ten cuidado con questo hierro come se fosse ciega o sorda o tonta. E poi, vorrei andare a pintare conmigo perché io ero una persona di fiazza. Io studiavo tutto il perimetro per sapere dove potessi entrare, dove potessi uscire, dove potessi escondermi, dove potessi disimulare. Qui era coperto di graffitti. Il loro vetro era lì, ed era il nostro posto, cioè era perfetto, c'erano questi pezzi noi stavamo là ed erano tutt'uno con chi viveva la piazza, quindi fricchettoni, pusher, stavamo tutti assieme. Noi eravamo in Piazza Vetra e eravamo in Lords of Vetra e io avevo questo nome che era Lord Bean da Lords e dalla mia tag. Per cui era tutto molto spontaneo. Fino a quando appunto poi non non è cambiato tutto, qui hanno chiuso, non ci si poteva più stare. era finito proprio il momento delle piazze, perché credo che quella fosse una cosa di Milano molto típica. questo formò parte di un mural molto grande che si è stato in Barcelona e lo abbiamo fatto nel 1993 e è stato vivo fino al 2001 perché nel 2001 la città di Barcelona cambiò su politica. di essere una città abierta al graffiti decidì che non si poteva fare nulla nella città, nulla. Non poteva spintare, non poteva patinarare. O sea, tutto lo che aveva fatto che Barcelona fosse una città abierta, moderna e che tutto il mondo chiedeva venire si aveva perdito. Nessuno pensava come adesso a documentare ogni cosa. Vivevi un sacco di cose e qualcuna veniva documentata perché c'era un pazzo che si era portato alla macchina fotografica. Quindi tutti quei documenti che adesso tutti stanno cercando per dire come era la Golden Age. Sono preziosissimi perché ce ne sono pochi. Ora tienes fat cap, ultra fat cap, super fat cap, skinny, ultra skinny. Antes ibas al supermercado e cogías los desodorantes, sacabas el cap, mirabas, parece gordo. Te lo llevabas, parece fino, te lo llevabas. Y eso me da pena. Pero por otro lado, yo veo a jóvenes que empiezan ahora que son igual de inocentes que éramos nosotros cuando empezábamos. Los niños, cuando van a un sitio a pintar, tienen el mismo tipo de ilusión y de terror y de ganas de hacerlo bien que teníamos nosotros. O sea, eso es un continuo que hace que el grafiti siempre sea algo mágico. Am I wrong to hunger